Siamo qua con Bruno Barbieri, uno degli chef più importanti d'Italia, forse del mondo, possiamo dirlo? Così dicono, a me non mi sembra, comunque va bene. Parla il palmares comunque, mi sembra, no? Almeno per quello possiamo essere oggettivi. Questa è una città universitaria e quindi il problema principe dello studente è che non ha soldi per nulla, quindi per mangiare fondamentalmente è l'ultima spesa che può affrontare. Secondo lei qual è un pasto per fare colpo ma comunque da universitario, quindi con la minima spesa possibile? Allora, intanto togliamo gli hamburger. E già questo è una bella storia, è una bella iniziativa. Punto numero uno. Punto numero due, questo è un paese dove si fa una grande produzione, come dicevo prima, di salumi, quindi queste paste, l'olio extravergine d'oliva, basta anche solo una piccola bruschetta con strofinato un po' di olio, due pomodori, un filo di olio, hai già fatto un pasto perfetto che ti fa stare bene, che ti fa studiare in una città come questa, devo dire, Perugia meravigliosa. Va bene, ringraziamo allora Bruno Barbieri per questo consiglio e ci vediamo al festival.